Ciao belli ben ritrovati sul mio canale, siamo di nuovo su Black Ops 3 facciamo una bella partita di deathmash a squadre visto che voglio stare un pochettino camperizzato me la godo un attimo così vi ricordo di lasciare un bel like alla fine di questo video se dovesse piacervi ma anche nel durante, ricordatevi quindi di iscrivervi se dovesse interessarvi e quindi commentate, io vi lascio il video e ci vediamo dopo la sigla e ciao! ok ragazzi siamo qua, appena cominciata la partita da poco quindi me la tengo come buona, perché se no di solito aspetterai per cominciare da zero però è appena cominciata quindi possiamo ancora starci dove siete tutti? sono tutti di là, anzi no sono tutti con... dai ce n'avevo uno qua dietro ma demonio di un demonio ladro cosa? connessione inter... ma chi c'ha la connessione dei puff? chi è lost? che schifo, 19, addirittura la connessione che fa schifo nel 2016 ragazzi forza forza nel 2016 con la connessione brutta in tre ragazzi hai capito che roba quello è andato quello è andato tutti là sono, di sotto e si pensano magari che io non ci vada non ci vado apposta ci vado ci vado apposta ci vado io tutti là sotto se mi desse anche il lanciagranatino eh sì ma dai mi ha fatto il giro dietro maleficium maleficium e ce n'è uno che gira e gli altri che stanno là dentro quindi direi a sto punto di andare a stanare quelli che stanno là dentro no! la granata c'era c'era la mina a pressione a pressione la mina a pressione ok qua non c'è nessuno lì non c'è nessuno no! mi ha visto mi ha visto? ce l'ho visto io veramente lui non l'ho già visto che sento? dove sei? qui non c'è spazio per gli idioti ma non è che l'hanno dato fuori quel deficiente via 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 ragazzi c'è la macchina da guerra oh! l'ho preso con la macchina da guerra passiamo un po' di là però eh qua qua non va bene i qua non ci stanno questi qua dai! ce l'avevo preso anche l'altro ma pensa a te come si ammessi qua? dai si ammessi due nel partito devo giocare con tutti i bot attenzione HCXD nemico localizzato attenzione vediamo se arriva qualcuno secondo me mi spunta adesso a destra eh giro un attimo bella lì troncidato subito camperizzamento eh oh dove sei? vedo rosso nooo ma visto troppo visto col mirino olografico l'ho visto nooo anche la sopra anche la sopra maledizione quanto siamo? 47,55 guarda è una partitona di quella che merita sembra di giocare contro dei bot veramente eh perché ce n'è uno che gira gli altri sono tutti col fucile mano fino l'ho visto l'ho visto bella lì così in salto la Chuck Norris nooo maledizione un millesimo prima no via 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 dove siete? fratelli miei no non vedo ancora nessuno adesso qua vediamo un po' se spuntano ma che spunterà sicuro eh ma sempre negli stessi posti quindi spuntano veramente alla grande di qua che se mi metto qua? aia mi passano dietro ho capito loro schema qua UAB ostile in sorvolo ha cambiato guardia ora passiamo di qua vediamo se ho capito bene lo sapevo eh scusa 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 porca miseria ce l'avevo dietro vai continua continua combatti nooo è lassù l'ho visto dopo purtroppo ero già fritto ero già mezzo fritto nooo maledizione con l'era mio nooo porca miseria ho visto il mirino rosso un secondo prima e ho avuto il riflesso troppo lento sincero mi sono perso un attimo stiamo vincendo bene ottimo sono veramente uforico qua non ci sta nessuno poi qualcuno spunta eh lo so preso neanche sgranella ste ste botigliette manca poco finite il lavoro sgranella li no l'ho preso lo preso nooo non l'ho preso Posso di là, posso di là Dobbiamo vincere ragazzi 92-92 Forza e coraggio Nooo Pareggio Brutta storia ragazzi, pareggissimo Chi fa vedere per primo però? Chi ha più punti? Nessuno Quindi nessun trisse Peccato, però è una bellissima partita Di Deathmash a squadra Finalmente senza camperizzatissimi Cioè, senza gente super ferma Riusciamo anche a divertirci un pochettino Se ti muovi e fai una zona, va che bene Va che bene Eccomi qua Cosa vuoi vedere? Questo? Dalla grande Bella, secondi, secondi Ragazzi, io mi sono divertito tantissimo Spero che anche a voi vi sia piaciuto il video Quindi se in caso mettete un bel like Mettetene anche due o tre Se potete, no, potete uno solo Vabbè Iscrivetevi al mio canale se ancora non l'avete fatto Commentate, condividete E fate un po' quello che volete Noi ci vediamo al prossimo video Ciao belli Eee Grazie a tutti Grazie a tutti